Siamo all'interno del Burial Arab, l'unico albergo a sette stelle del mondo a Dubai. Questa è la hall dell'hotel, uno spettacolo. Siamo al diciottesimo piano, questo dovrebbe essere il centro benessere. Il Burial Arab, lì è il corridoio delle stanze, ma non c'è l'unico, non c'è l'unico. Non credo sia possibile passare, se vediamo se riusciamo ad entrare in una camera. Il ventisettissimo piano per il nostro drink. Grazie. 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 Grazie.